Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo visto l'iniziale incredulità di San Zaccaria all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Oggi, quinto giorno della novena, vediamo la fede di Maria Santissima che crede alle parole dell'Angelo e diviene Madre di Dio. Quando l'Angelo Gabriele saluta la Vergine Maria con le parole «Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te», piena di grazia appare come il nome nuovo di Maria. Queste parole indicano una pienezza di grazia che vi è fin dall'inizio e sono considerate come il fondamento scritturistico della verità dell'Immacolata Concezione. Da diversi padri della Chiesa, l'Annunciazione è vista come il parallelo della tentazione di Eva. Nel Paradiso Terrestre, l'Angelo decaduto, Lucifero, parlò ad Eva e la ingannò, facendola diventare insieme ad Adamo causa della rovina universale. A Nazareth vi è un altro angelo, un angelo buono, Gabriele, che parla a Maria e le annunzia la maternità divina. Ella obbedisce alle parole dell'Angelo e diviene, per grazia di Dio, causa di salvezza. Queste due scene, quella dell'Eden e quella di Nazareth, hanno cambiato le sorti dell'umanità, la prima in male, la seconda in bene. A Nazareth, con le parole dell'Arcangelo Gabriele, ebbe inizio la salvezza del mondo. Scriveva un santo, precisamente San Luigi di Monforte, che sarà sempre per queste parole, parole che noi ripetiamo ogni volta nell'Ave Maria, che la salvezza entererà in ogni anima. Recitiamo sempre con amore questa preghiera, domandando con fede che anche noi un giorno possiamo essere in Paradiso a lodare Dio per la sua infinita misericordia e Maria per la sua bontà materna. I padri della Chiesa ritengono che Dio non si è servito di Maria in modo puramente passivo, ma che ella ha cooperato la salvezza umana nella libertà della sua fede e della sua obbedienza. Sant'Ireneo afferma, con la sua obbedienza, «Ella divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano». Altri padri antichi insegnano che il nodo della disobbedienza di Eva è stato sciolto dall'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha slegato con la sua fede. E sempre confrontandola con Eva chiamano Maria la vera madre dei viventi e dichiarano spesso «la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria». L'Immacolata dunque con il suo sì divenne causa di salvezza per tutto il genere umano. Dio ha fatto dipendere tutto da quel sì, l'incarnazione e la salvezza del mondo. E così, in misura certamente minore, sarà anche di noi. Se diremo il nostro sì a Dio, se faremo la sua volontà, diventeremo causa di bene per noi e per i fratelli. Ma, diciamo la verità, noi non abbiamo fatto sempre la volontà di Dio. Per lunghi anni siamo stati lontani da Lui e non siamo stati causa di bene per noi e per i nostri fratelli. Chissà quante grazie abbiamo sprecato, quanto bene potevamo aver fatto e non l'abbiamo compiuto. Pensiamo a quanto male abbiamo corrisposto alla grazia di Dio. Questo pensiero ci potrebbe certamente portare allo scoraggiamento, ma grazie a Dio abbiamo l'Immacolata. Diceva un sacerdote che voleva molto bene alla Madonna, un certo Monsignor Bartolomei, che per intercessione di lei noi possiamo ottenere una grazia grandissima, quella di giungere all'unione con Dio e a quella perfezione alla quale si sarebbe giunti se avessimo sempre corrisposto alla grazia di Dio. In poche parole la Madonna ci può far recuperare la grazia perduta. Ecco le sue parole che sono molto consolanti. Una sola Ave Maria che la Madonna mi aiutasse a recitare sarebbe bastante per compiere questo divino portento di un cielo nuovo e di una terra nuova nel piccolo eppur smisurato mondo mio interiore. O mia dolcissima Madre, questa grazia mi lusinga tanto. O Maria, io mi nascondo fra le Tue braccia e ad occhi chiusi intendo domandarti questa grazia ad ogni istante. Certo, è una grazia enorme, ma possiamo sperarla dalla bontà della Madonna. Monsignor Bartolomei diceva che non si può dubitare di questa possibilità. La Madonna, attingendo la sua pienezza di grazia, ci può ottenere ogni bene più di quanto possiamo immaginare o sperare. Di questo Monsignore si legge che era consacrato alla Madonna che rinnovava ogni anno la sua consacrazione premettendo un mese di preparazione. Durante quel mese di preparazione rileggeva e rimeditava il trattato della vera devozione scritto da San Luigi di Monforte. La devozione alla Madonna in lui era qualcosa di connaturale, un bisogno del cuore, quasi un cibo, il respiro della sua anima. Non sapeva pregare senza invocare Maria, parlare senza nominare Maria, scrivere senza scrivere di Maria. La sognava persino di notte. Anche essa, Massimiliano Maria Colbe, ci viene in aiuto e ci incoraggia dicendoci Mi rendo conto personalmente che trascuro molte cose buone, quelle buone le compio malamente e non sono esente dal male, ma la speranza è nell'immacolata, la quale è in grado di riparare ogni cosa e trasformarla in un bene maggiore. E poi scriveva Perché ti preoccupi e ti rattristi? Abbandona tutto all'immacolata e affida tutto completamente a lei. Ella è capace di riparare il male e di indirizzare ogni cosa alla più grande gloria possibile di Dio. Confida in lei illimitatamente. Confidiamo illimitatamente in lei e lei scriverà dritto anche sulle nostre righe storte. Siano lodati Gesù e Maria.